Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Io in questo momento rappresento, come potete vedere, la Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia. La Francia è stata scelta quest'anno come paese ospite alla mostra dell'artigianato. Il motivo principale è perché c'è una stretta collaborazione tra la nostra Camera di Commercio e l'organizzazione della mostra dell'artigianato che ringraziamo per averci ospitato tra l'altro e per averci dato l'opportunità di mostrare tutti i prodotti artigianali migliori. Come potete vedere qui c'è una piccola selezione dei prodotti. Sono le coloro che hanno esposto questi prodotti, sono tutti iscritti tra l'altro a un albo degli artigiani. Sono tutti tra l'altro molto entusiasti di essere stati invitati qui perché è una cosa che rende sempre orgogliosi e diciamo così felici. Speriamo che anche il pubblico abbia apprezzato questo evento perché da parte degli artigiani c'è grande entusiasmo e anche grande voglia di tornare anche per le prossime volte. Conoscere gente nuova, far vedere i prodotti tipici e far conoscere oltre ai prodotti anche la cucina francese. Possiamo per esempio mostrare qui ci sono alcuni patè, alcuni salumi. Purtroppo non posso farvi vedere il ristorante che serve fonduta o colui che fa le crepe perché sarebbe un po' difficile esporlo qui però comunque bene o male qui vedete esposti i prodotti principali. Sì questo è un aceto balsamico ma soprattutto viene usato per fare delle marmellate di accompagnamento col formaggio e c'è una signora che produce queste marmellate in modo artigianale senza conservanti, senza robotizzanti.